Così, a memoria, il Consorzio Servizi Sociali dell'Ossola ci sembrerebbe il solo che in una seduta pubblica presenta dati, conti e servizi erogati, aderendo concretamente alla giornata della trasparenza sulla quale moltissimi altri enti pubblici, anche statali, fanno orecchie da mercante. Una fotografia di che cosa si spende, cosa si fa e dei costi sostenuti dal CIS. Queste attività sono praticamente la sintesi di quello che viene svolto da tutti i vari settori del Consorzio rispetto a quello che sono gli interventi che vengono fatti nei vari ambiti, per cui il discorso sui minori, sugli anziani, sui disabili e anche i costi che sono sottesi a questo tipo di attività. È una maniera per dare giustificazione al pubblico, all'esterno, agli stakeholder, così come si dice adesso, per quello che sono le attività che vengono svolte. Nell'Assemblea il direttore Mauro Ferrari ha spiegato le finalità dell'iniziativa e illustrato agli amministratori dati e obiettivi. Tabelle che illustrano come il CIS OSSO la spenda in assistenza per ognuno dei 61.313 abitanti del territorio la cifra è di 115,64 euro. È tanto? È poco? Non sappiamo, ma lo studio commissionato da un esperto esterno ha permesso almeno di confrontare le spese con quelle degli altri CIS. Il CUSIO spenderebbe 80,8 per abitante, il Verbano 86,5, Castelletto Ticino 73,6, Borgo Manero 69,6. I comuni ossolani partecipano alla spesa di 115,64 euro, cioè 98,97 euro se togliamo i servizi ai migranti, con un contributo di 33,46 pro capite. In poche parole, per ogni euro erogato al CIS dai comuni, gli ossolani ricevono servizi per 2,96 euro, quasi il triplo di quello versato appunto dai comuni. contro i 2,38 del CUSIO, i 2,61 del Verbano, i 3,05 di Castelletto e i 2,11 euro di Borgo Manero.